In questa lezione vediamo come inserire i destinatari in una lettera o comunque come far completare in automatico una lettera a Word sfruttando la sua funzione stampa unione Adesso vediamo qui, siamo sulla nostra finestra di Word e abbiamo le varie schede del menu File, Home, Inserisci, Progettazione, Layout, Riferimenti e Lettere Apriamo la scheda a lettere e vediamo inizia stampa unione Se facciamo un clic qui andiamo sull'ultimo, Creazione guidata di stampa unione Ci apre questo menu sulla destra dove noi possiamo inserire tutte le varie opzioni per fare questa stampa unione e attivare questa funzionalità di compilazione automatica inserendo dei dati presi da un database in questo caso da un foglio di Excel Quindi noi stiamo lavorando ad una lettera, quindi lasciamo lettere e clicchiamo su successivo Quindi su quale documento dobbiamo farla? Su questo che abbiamo aperto Quindi usiamo il documento corrente Oppure se non fosse su questo ne selezioniamo un altro In questo caso andiamo su successivo Ok, l'elenco può essere esistente o no Come dicevo in questo esempio che andiamo ad affrontare oggi è in un file Excel Per cui lasciando l'uso elenco esistente clicchiamo su sfoglia Quindi andiamo a cercare il nostro file Excel Eccolo qua, indirizzerò fino al foglio di lavoro Excel Foglio 1 E diamo l'ok La prima riga, lasciamolo spuntato E' importante, contiene i dati di intestazione di colonna Ovvero va ad indicare che cosa saranno poi i contenuti nelle righe seguenti Eccoli qua Eccoli qua Ha trovato le righe cognome, nome, titolo, eccetera Diamogli l'ok Vediamo che i dati sono quelli che in realtà ci aspettiamo Dopodiché andiamo su successivo Allora adesso qui cosa dobbiamo fare In questa schermata, con posizione della lettera Dobbiamo inserire dei placeholder Cosa sono dei placeholder? Come dice il termine stesso in inglese Sono dei segni a posto Ti mantengono nel posto Per cui per inserirli noi in maniera un po' più guidata Selezioniamo la posizione dove li vogliamo inserire Andiamo su altro Ad abbiamo un elenco dei campi del nostro file Excel Quindi inseriamo Adesso li inseriamo tutti Poi li disponiamo dopo Ok vedete ogni volta che clicco su inserisci Mi va a mettere un placeholder Adesso chiudo E li posso dunque sistemare Quindi andiamo a capo Nome e cognome Lo lasciamo in una riga Mettiamo lo spazio in mezzo Anche gli a capo Perché tutto quello che noi inseriamo Non ci sarà Ricordatevelo Quindi quando vogliamo mettere i simboli Delle spaziature Li dobbiamo mettere adesso qui nel placeholder Perfetto Adesso vediamo qui Successivo Ci da l'anteprima Quando clicco qui Vedete Sta inserendo i dati Che trova nel documento Excel Quindi se mi va bene Clicco ancora su successivo E vedete mi da due opzioni Stampa per mandarlo direttamente in stampa Oppure modifica singole lettere Per creare una copia di questo file Per ogni intestatario che trova nel file Excel Nei vari record Allora tutti i record Se mettiamo il record corrente Mette appunto il primo Quello che vediamo qui Oppure li possiamo dire Quali mettere Il record cosa sono? Sono le righe del file Excel Ok Questa è la prima riga dopo l'intestazione Che abbiamo segnato prima Usare appunto come intestazione Per riconoscere i campi E poi possiamo anche dargli un range Ma a noi adesso vogliamo fare La creazione di una pagina Per ogni destinatario Quindi lasciamo tutti E clicchiamo su ok Adesso vedete Che mi ha creato un documento Dove ci sono varie pagine Sempre la stessa copia Una per ogni destinatario Chiaramente L'esempio che abbiamo fatto adesso È su Quattro destinatari Qualcuno potrebbe dire Faccio prima fare copia e incolla Può essere vero Però mettetevi nei panni Di una realtà un po' più grande Dove magari Bisogna fare una richiesta di preventivo Per 500 diverse aziende È chiaro che È molto più veloce Se ho una lettera pronta Con la stessa richiesta E cambio semplicemente l'intestazione E poi le posso inviare Per cui ricordatevi Alla sezione lettere La funzione stampa unione Può essere molto comodo E vi può far risparmiare Molto ma molto tempo Per cui ricordatevi Per cui ricordatevi